bene, allora dicevamo passiamo agli script lo script l'avevamo già scritto 1, prova gli cambiamo nome quindi F2 chiamiamolo clickami e cambiandogli nome lui non ha cambiato il nome dentro lo script e dobbiamo pensarci noi quindi facciamo doppio click andiamo dentro questo oggetto e dobbiamo cambiare questo nome in realtà l'ho già fatto prima lo script, almeno uno simile lo ricopio e vi faccio vedere le cose che ci interessano quindi tolgo le cose che noi interessano lasciamo cliccami e il nome due punti mono behavior quindi questo ci va vedete che qua le cose che noi stiamo usando è soltanto unity engine perché vedete che è illuminato le altre sono scritte ma non servono quindi in teoria potrei cancellarle poi la cosa che mi interessa è fargli avere un oggetto un game object c'è una parte di unity su cui vogliamo operare vedete che possiamo operare anche su altre cose come ad esempio un suono oppure una urla ma per il momento facciamo la cosa più semplice che esista quindi noi ecco lo script che andremo a progettare a fare è questa cosa qua molto carina cioè praticamente gli diremo in qualche modo che deve operare su un oggetto e quando andiamo a cliccare sul cubo quindi questo script lo mettiamo nel cubo quindi quando il cubo lo cliccheremo ci sarà un mouse down gli diremo di flippare insomma fare un toggle italiano vuol dire inter cioè rovesciare lo stato insomma di quell'oggetto quindi se era attivo lo rende disattivo e se era disattivo lo rende attivo per sapere se un oggetto è attivo o meno basta chiedergli l'active self che è un metodo che permette di tornare lo stato dell'oggetto questo punto esclamativo vuol dire rovesciare quindi not si legge anche e questo object self active è un metodo di questo oggetto che abbiamo fatto che permette di tra l'altro qui possiamo anche potremmo anche chiamarlo target giusto per non chiamarlo in un modo in un modo che magari target 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 ok quindi il target sarebbe l'oggetto che vogliamo su cui vogliamo operare quindi facciamo ctrl s avete notato torniamo sul nostro oggetto vedete che ci impiega un po' quando torno perché compila lo script se lo script deve avere degli errori qua sotto compaiono gli errori e dobbiamo correggerlo quindi lo scriptino come vedete è molto semplice in realtà è uno scriptino che ha un target un public game object il public adesso vediamo cosa fa e poi dice semplicemente quando viene cliccato di invertire lo stato dell'oggetto che è target allora noi adesso questo script cliccami lo prendiamo e lo trasciniamo possiamo anche metterlo forse così proviamo se è vero il cubo praticamente dovrebbe avere lo script addosso sì quindi abbiamo infilato lo script in un oggetto semplicemente trascinandolo possiamo anche trascinarlo dentro qua oppure potremmo anche fare add component qua e scrivere cliccami e così aggiungiamo quell'oggetto ora il public che abbiamo scritto vedete che fa comparire che cosa un il nome del public che si chiamava target compare qua e qui vedete che vuole un game object e noi prendiamo e gli mettiamo il pannello quadro 1 e lo mettiamo qui dunque qua ok quindi avendo messo il quadro 1 nel target a questo punto questo quadro 1 lo mettiamo non visualizzato e diciamo semplicemente che lo script è già attivo nel senso che se io faccio un play di questa cosa faccio il play andiamo un po' qui gli ho messo che c'è il maximized on play così lo vediamo bene quindi qui noi non possiamo fare nulla adesso nel prossimo video vi farò vedere anche come ci possiamo muovere però intanto possiamo andare qua se clicchiamo da tutte le altre parti non succede niente e se clicchiamo qua vedete che ci appare l'interfaccia utente che è questa con l'immaginina e il testo che vi ho messo adesso qui è fatto un po' maluccio poi impareremo magari a farlo anche un po' meglio ma il concetto è che cliccando di nuovo sparisce e cliccando riappare quindi questo è un modo molto elementare per far apparire delle cose o sparire quando si clicca vedrete che diventerà anche potente quando potremmo anche muoverci col WSD e diventa anche interessante se invece di farlo apparire in questo modo sulla telecamera lo faremo apparire come proprio un qualche cosa che appare dietro il cubo quindi noi interagiamo con il nostro mondo 3D nel senso che ci avviciniamo al cubo clicchiamo e quando clicchiamo dietro il cubo sorge diciamo compare il quadro corrispondente eventualmente possiamo mettersi anche che parte un qualche cosa un segmento audio quindi una descrizione sonora e cose del genere quando fate queste cose siete in play quindi dovete cliccare questo ricordatevi di salvare sempre la scena e e e niente quindi abbiamo visto come creare praticamente un pavimento abbiamo visto come creare un oggettino e far funzionare l'oggettino come bottone il tutto con uno script che lo andiamo di nuovo a vedere l'abbiamo messo qua cliccami che effettivamente ha tante cosine insomma che possono sembrare un po' complesse ma si ripetono tutte uguali quindi la cosa più importante è il nome cliccami che deve essere uguale al nome del file quindi se l'avete chiamato cliccami deve chiamarsi cliccami.cs qui ci devono essere dei public che sono poi le cose che potete vedere sull'inspector e poi le azioni cioè quando succede che si fa on mouse down cioè quando si clicca il mouse allora lui esegue questa funzione questa funzione semplicemente fa questo mestiere se vi sembra brutto vederlo così potete anche riscriverlo dicendo if target potete mettere sempre in termini di di più semplici insomma if target e poi active self active self quindi se era attivo perché questo è attivo allora gli avete aperta graffa per dire che dovete eseguire dall'inizio della graffa fino alla fine e fate target set active false ecco qua mettete il punto e virgola al termine di ogni istruzione tranne nelle graffe e nelle if ovviamente e qui mettiamo else quindi se il target non era attivo gli mettete il contrario target punto set active true e qua ci va il punto e virgola quindi non so se vi torna quindi se vi domandate se era attivo se era attivo lo spegnete altrimenti lo accendete quindi fate ctrl s tornate al vostro al vostro progetto vedete che ci ha impiegato un po' perché l'ha compilato questo è il nuovo codice quindi vedete che è più lungo però per alcune persone potrebbe essere più chiaro che non usare il punto esclamativo usare un modo nell'altro è analogo e poi potete verificare se funziona facendo play e poi andate qua dentro cliccate e vedete che avete il vostro oggetto ricliccate e se ne va allora nel prossimo video faremo vedere come invece ottenere quell'effetto di apparire il quadro dietro comunque tenete conto che questo modo di operare cioè di far vedere le immagini in trasparenza in questo modo sono anche molto utili perché consentono di fare delle cose molto interessanti dei giochi come ad esempio ottenere dei contatori dei hood cioè delle cose che appaiono sul video magari con una trasparenza più alta in modo tale che voi potete poi cliccare anche sui vari componenti per ottenere degli effetti quindi questo può essere diciamo anche molto potente per orchestrare dei giochi va bene allora questo è tutto buonasera